Oggi parleremo di un argomento di cui forse conosciamo troppi falsi miti, parleremo di sovrappeso e cercheremo di capire quali sono proprio le convinzioni errate che abbiamo. Lo faremo insieme al professor Rolando Bolognino, che è biologo nutrizionista, professore in scienze della nutrizione e dietetica clinica presso l'Università degli Studi di Roma, Unitelma La Sapienza. Allora professore, noi innanzitutto vorremmo dire addio al sovrappeso, ma per farlo dobbiamo conoscerlo. Quindi iniziamo subito. Che cos'è il sovrappeso? Il sovrappeso è definito come il rapporto tra l'altezza e il peso superiore a un indice di massa corporea di 25. Spieghiamo. Il peso in chili, l'altezza espressa in metri al quadrato, noi facciamo il rapporto fra queste misure ed esce un numero. Una formula matematica diciamo. Una formula matematica. Quando siamo tra i 18 e i 24.9 siamo nel normopeso, da 25 in su siamo in sovrappeso, da 30 in su in obesità. Però ricordo che questa è una formula statistica di popolazione, quindi un indice statistico di popolazione che serve a fare screening di migliaia o milioni di persone. Non prende in considerazione il rapporto grasso-muscolo che invece fa la differenza. Oggi che siamo in una società sedentaria assistiamo ad un fenomeno sempre in aumento che si chiama normal weight obese, cioè un peso che tutto sommato sarebbe anche corretto di poco superiore, ma che però è composto da troppo grasso e troppo poco muscolo. Quindi quando parliamo di sovrappeso dovremmo parlare di quanto pesa il nostro grasso e quanto poco pesa il nostro muscolo. E quindi professore, ci sono dei metodi per poter definire questo sovrappeso oltre questa formula matematica? Certo, questa formula è utile, però sicuramente in studio ci sono tante metodiche che ci permettono di analizzare proprio la composizione corporea. abbiamo la DEXA che è il gold standard, però è un esame quasi prettamente ospedaliero. Dopodiché abbiamo alcuni strumenti molto efficaci che usa il nutrizionista, il dietologo, che sono la bioimpedenziometria, la dipometria, il plicometro e il centimetro. Questi strumenti, il centimetro è proprio questo qua, questo non facile. Esatto, con la bioimpedenza si riesce attraverso la misurazione dell'acqua a derivare due parametri, resistenza e reattanza, quindi grasso e muscolo. Con l'adipometro che è un ecografo si misura in millimetri lo spessore del muscolo, quello del grasso e il grado di idratazione. Con il plicometro selettivamente si parla a prendere solo la plica, lo spessore della plica del grasso, ma il metro molto economico è comunque un validissimo aiuto per esempio per prendere il rapporto circonferenza vita, circonferenza fianchi. Dico sempre al paziente che la bilancia più precisa è la vita dei pantaloni. Quindi bisogna prendere il giro vita. Però professore si sente spesso dire, anche ultimamente sempre più spesso, che basterebbe mangiare di meno per riuscire a dimagrire. In realtà è successo anche che dopo il covid alcuni studi hanno evidenziato che invece gli obesi, soprattutto in Italia, sono diventati più di 25 milioni in sovrappeso, sono le persone. E quindi non è vero che basta ridurre la quantità di cibo per tornare normo peso? Allora, sicuramente dovremmo mangiare tutti meno. Se noi mangiassimo come popolazione mondiale il 20% in meno delle calorie che introduciamo giornalmente, avremmo un'aspettativa di vita maggiore del 30%. Quindi sicuramente in questa latitudine del pianeta mangiamo troppo. Detto questo, il problema non è solo quante calorie entrano, ma è anche lo stato emotivo con cui io mi avvicino al cibo. Perché spesso la gente non mangia perché ha fame, ma ha voglia. Quando ho un paziente al studio chiedo sempre come va la dieta e c'è una grande differenza tra il mangiare perché si ha fame e il mangiare perché si ha voglia. Oggi purtroppo, per cose che vedremo anche più avanti, l'aspetto emotivo è proprio molto bersagliato anche anche dei social, no? E quindi la regolazione della fame è spesso su base emotiva. E quindi influisce tantissimo. Così come, ahimè, influiscono le feste adesso che stanno arrivando e quindi si tende, ma non soltanto durante le feste, lo si fa anche prima dell'estate, si tende a provare queste diete anche last minute dell'ultimo minuto. E purtroppo anche dopo le feste. Che è anche dopo le feste, che sono diete basate su o solo proteine o digiuno oppure pasti alternativi. Ma ne possiamo dire tante. Ne possiamo dire tantissime. Ce ne sono per tutti i gusti, ma purtroppo. Anche pericolose per la salute. Esatto, pericolose. Quindi le volevo chiedere, ma sono davvero valide, giuste, vanno seguite? La risposta è nella domanda, la risposta è nella domanda. No, chiaramente. Noi dobbiamo cercare di arrivare alle feste con la giusta mentalità. Dico sempre che la dieta è un po' come frutta e verdura, ha la sua stagionalità. Guardo sempre con un po' di dubbio, di diffidenza. Chi il 24, il 25 non mangia, non fa la festa perché sta a dieta. È normale che nelle feste di Natale ci si rilassi un pochino. Dobbiamo proprio goderci le feste. Ci serve rilassarci anche proprio con la testa perché poi a gennaio invece è giusto ripartire bene. Ma questo non vuol dire perdere il controllo durante le feste. Le feste non sono dal 23 dicembre al 6 gennaio. Quella è la chiusura delle scuole. I giorni di festa sono quelli rossi sul calendario o qualche piccola traslazione magari tra il 26 e il 24. Però mangiamo un po' di più i giorni di festa ma soprattutto non mangiamo male nei giorni tra le feste perché spesso spizzichiamo gli avanzi, il pezzetto di torrone, il pezzetto di panettone. Mangiamo nei giorni di festa e muoviamoci di più. Non dico a nessuno di mangiare meno durante le feste ma invito tutti a muoversi di più. Consumiamo di più. Però professore ci dia allora la, non dico la soluzione assoluta, ma come dobbiamo fare a dimagrire e quindi a ridurre il sovrappeso? Qual è il modo vero per farlo? Allora intanto per ridurre il sovrappeso dobbiamo uscire dal concetto che esista una pillola magica. Se io in anni o in tanti mesi ho messo su dei chili è assurdo voler perdere questi chili in poche settimane. Io devo conoscere la fisiologia della persona quindi innanzitutto quello che facciamo in uno studio è proprio fare l'anamnesi della persona e capire quali sono i suoi errori e ad andare a lavorare lì. Cioè se io non conosco quelli che sono gli errori che la persona fa a tavola, che sono poi alla base dei problemi che l'hanno portato a sviluppare il sovrappeso, come faccio a ridurli. Quindi prima cosa conoscere le abitudini sbagliate e andare a lavorare su quello che è un cambio delle abitudini perché altrimenti se io faccio soltanto una dieta che mi leva 5 chili e poi dopo ricomincio a mangiare male e li riprendo. Cioè se io non ho avuto una patologia che mi ha fatto aumentare di peso, quindi non è una casa endocrina, ma sono stati i miei errori, dovrò correggere quelli. Sono gli errori comportamentali che sono alla base di un corretto stato ponderale. Tutti più o meno più o meno sappiamo come si mangia bene e avere gli strumenti emotivi per riuscire a farlo, che fa la differenza tra una dieta che ci fa perdere il peso ma poi non lo riprende. Una dieta che diventa una dieta, cioè uno stile di vita, non qualcosa da fare una settimana. E ultimamente professore sentiamo molto spesso un concetto in inglese che è definito mindful eating e che poi tradotto in italiano è proprio una consapevolezza alimentare. Ci spiega di che cosa si tratta? Allora quando parliamo di mindful eating stiamo parlando di una costola della mindfulness. La mindfulness è un percorso scientifico di conoscenza che affonda le sue radici nella pratica meditativa buddista della vipassana. Quindi è sì una meditazione laica, un focus su quelle che sono i nostri pensieri, il nostro ruminare dei pensieri, questi pensieri che stanno sempre proiettati o quello che dovrò fare o quello che ho fatto e mai quello che sto facendo. Questa cosa applicata all'alimentazione mi aiuta a essere presente nel momento che mangio. quanti sanno realmente che sapore ha quello che portano in gola? Tanti una masticata ingoiano quindi si diventa consapevoli dal dal gesto del portare il cibo alla bocca alle masticazioni e al sapore che generano quei cibi in bocca. Andiamo sempre troppo velocemente e quindi abbiamo capito che non basta mangiare per nutrirsi e il concetto finisce lì, ci vuole altro. Quindi a tavola per esempio che cosa dobbiamo fare? Allora sicuramente non dobbiamo tralasciare cose a cui diamo poca importanza come apparecchiare bene la tavola, ciò che mettiamo nel piatto, l'impiattamento, quindi la scelta delle materie prime, come gestiremo quel piatto. Dopodiché quello che ci arriva davanti agli occhi, una cosa è mangiare un pesce lesso buttato lì nel piatto con due verdure lesse, una cosa è preparare un'insalata colorata con un pesce cucinato sempre in una padellina con un po' d'acqua ma con due spezie con due pomodorini e poi prima di mangiarlo è già l'odore che ci prepara a quello che mangeremo. Tanti bevono il vino magari dopo aver fatto un corso a sommelier si accorgono che in quel vino ci sono tante cose ma non l'hanno mai odorato, stessa cosa con il cibo non lo abbiamo mai realmente assaurato, dopodiché si mangia. Quindi il mangiare è proprio l'ultimo dei passaggi, però è molto importante come noi ci avviciniamo al momento dell'alimentazione, non voglio dargli troppa sacralità, però ne ha perché è quello che ci permette di crescere e diventare da neonati fino all'invecchiamento. Abbiamo visto un cartello prima molto bello, scegli, guarda, odora e mastica, ogni cosa ha bisogno di un suo tempo. Esatto, scegliamo il cibo. Poi ci ritroviamo però professore ad avere pochissimo tempo e a mangiare davanti al pc, davanti al telefonino, davanti al tablet e questo purtroppo è dimostrato che non solo non fa bene alla salute ma addirittura fa ingrassare. Quindi il concetto è che quali comportamenti possiamo avere per restare in forma? Perché banalmente questo ci sposta dall'attenzione verso quello che stiamo facendo. Il cibo diventa quasi un accompagnamento alla cosa realmente importante che è stare davanti allo schermo. Quindi si è visto che proprio un aumento dei social ha coinciso con un aumento dei disturbi dell'alimentazione. Nel momento in cui si mangia noi dovremmo stare con il nostro cibo. Concentrati. Quello è un momento in cui noi stiamo nutriendo la salute. Se non gli dedichiamo la giusta attenzione sia nello scegliere le materie prime sia nel cucinarle ma poi nel portarle dentro di noi finiamo per nutrire la patologia anziché la salute. E ha un valore molto più profondo di quello che solitamente gli diamo. Grazie al professor Bolognino. Grazie a voi.